in queste elezioni locali sicuramente il grande vincitore è il partito gp non solo perché è riuscita a mantenere il controllo delle grandi città di istanbul ancara e smir ma anche perché in queste città ha ottenuto dei grossi risultati come non notare il risultato di ancara dove il partito ha ottenuto ben il 60 per cento dei consensi ma queste città ha aggiunto anche bursa una città importante per l'economia del paese a questo va aggiunto il fatto che il partito per la prima volta è riuscito a ottenere ottimi risultati al di là delle aree del mediterraneo e del mar egeo è riuscita a penetrare all'interno del del paese come non notare gli ottimi risultati sul mar nero ma anche per esempio in una città come a diamant una città che l'anno scorso è stata colpita devastata dal terremoto e che non votava gp dagli anni settanta ha ottenuto lì un ottimo risultato ma anche in altre province insieme al gp un altro partito che sicuramente può trionfare e il ieri fa parte sì un partito che che fa appello ai stessi elettori è la stessa base elettorale del della party e che era stato snobbato dal presidente erdogan invece ha dimostrato di essere un partito forte vince nella provincia di urfa che è una provincia molto grande al confine con la siria e anche in una piccola provincia di osgat ma anche in tutto il paese ottiene numerosi distretti e ha provato una sua forza e sarà molto difficile per la party poter inglobare questo partito che adesso si sente euforico e molto forte il grande sconfitto di questa elezione è sicuramente erdogan e il suo partito la party il partito è stato sicuramente svantaggiato da una affluenza relativamente bassa però non andare al voto è stata una scelta dell'elettorato della party per punire il partito punire il partito non solo per una sbagliata conduzione dell'economia e ma allo stesso tempo anche per un atteggiamento completamente sbagliato del partito tutti ricordano che erdogan in campagna elettorale ha detto che se non votate per la party non riceverete nessun servizio comunale e la risposta dell'elettorato è stata ben chiara a questa questo atteggiamento spavaldo e erdogan oggi si trova di fronte a fare delle scelte molto importanti per riformare il suo partito insieme a erdogan aver perso queste elezioni e sicuramente meral action air ma anche altri piccoli e partiti che in questi anni non sono riusciti a costruire forti legami con il territorio ma anche a definire una loro identità e molti di questi partiti probabilmente scompariranno dal dalle croniche politiche dei prossimi anni